Signore, in questo giorno in cui la Chiesa ci chiama a contemplare Maria nella sua Assunzione al Cielo, in anime e corpo, e a farle festa, mi chiedo dove trovare parole adatte per esprimere alla nostra cara Mamma Celeste auguri degni della sua bellezza e come manifestare in modo degno l'amore e la venerazione che ho per lei. Non ci sono parole umane sufficienti, mio Dio. C'è solo da stare attoniti, in contemplazione. Tanto il mistero supera in bellezza la nostra immaginazione e lasciare che una gioia profonda invada i nostri cuori. Dammi le tue parole, Gesù. Vieni in me, fonditi in me e da dentro di me parla tu alla Mamma. Lei sicuramente riconoscerà la tua voce, ma accoglierà anche me come accoglie te, perché quello che maggiormente desidera è vederci figli uniti a te e riconoscere anche in noi le tue sembianze. Oggi è festa grande in cielo e tutti vogliamo unirci agli angeli e ai santi del Paradiso nel contemplare ed esaltare la creatura più bella, Maria, alla quale Gesù hai fatto vivere per primo, dopo di te, l'esperienza della risurrezione anche corporea. Grazie per questo privilegio che le hai riservato, Signore. In lei vediamo il nostro futuro, la meta che tu, con il Padre e lo Spirito Santo, hai preparato anche per noi e che un giorno, con il tuo aiuto, raggiungeremo. Aiutaci ad ascoltare i suoi richiami e a seguirla nel percorso di conversione nel quale desidera accompagnarci. Maria, mamma carissima, vorrei che oggi tutti i tuoi figli ti fossero intorno per onorarti e festeggiarti. Vorrei che tutti ci sforzassimo per rassomigliarti nella purezza, nel cercare unicamente la volontà di Dio, nella sollecitudine di portare Gesù e la sua parola a tutti coloro che ancora non lo conoscono, nel condividere il suo amore e gioire insieme. Quando tu hai avuto in dono Gesù, appena lo hai accolto nel tuo seno, sei corsa ad Elisabetta per condividere con lei la grande gioia che hai espresso nel meraviglioso canto del Magnificat. Lei ti chiama benedetta tra le donne e beata perché hai creduto alla parola del Signore. Anche noi vogliamo lodarti e chiamarti con gli attributi più belli, ma siamo sicuri che tu, prima di tutto, desideri da noi un cuore aperto ad accogliere Gesù, per farlo crescere in noi come è cresciuto in te, che non solo lo hai accolto come mamma, ma ti sei immedesimata a tal punto nella sua missione da diventare la prima e più perfetta sua discepola. Ti preghiamo, mamma cara, come hai portato Gesù nella famiglia di Elisabetta, così portalo anche nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità. Il nostro più grande desiderio, tu lo sai, è accoglierlo insieme ai nostri cari e vivere uniti con loro alla sua presenza. Prega per noi, Madre, e prendici per mano per condurci verso una conversione sempre più profonda. A te ci affidiamo e nella tua guida intercessione presso Gesù noi confidiamo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie. Grazie. Grazie.